Sono Andrea Bassoli, ingegnere, architetto, mi occupo da una decina d'anni di consolidamento di edifici antichi. Il bene culturale, identificato come edificio, identificato come monumento, è simbolo della nostra identità. Pertanto l'intervento che si va a realizzare per limitare, per ridurre quello che è il rischio di danneggiamento per effetto di un evento eccezionale, deve essere in qualche modo realizzato in modo che non alteri l'identità, che non alteri l'aspetto del monumento. Questo proprio per garantire una buona conservazione del monumento, una buona conservazione del palazzo. La valutazione del rischio è la valutazione degli effetti di un evento dannoso nei confronti di un bene, di un momento o di un edificio storico. I due effetti che vanno analizzati sono gli effetti nei confronti, le conseguenze nei confronti di persone e le conseguenze nei confronti del bene stesso. Gli effetti nei confronti delle persone vuol dire che noi dobbiamo avere l'attenzione di analizzare un edificio in modo che questo possa resistere a un evento dannoso senza arreccare danno, senza arreccare pericolo alle persone che ne usufruiscono. Nei confronti del bene, l'edificio valutato come valore, come bene tutelato, deve sopravvivere all'evento dannoso anche per continuità dell'importanza culturale che ha nel nostro periodo sociopolitico. In Italia ci sono due normative principali che devono essere osservate e che guidano l'analisi e il nostro percorso di valutazione dell'edificio. La prima sono le norme tecniche delle costruzioni, norme tecniche che hanno definito quali sono i parametri e quali sono gli elementi che ci consentono di arrivare a una calcolazione, a una modellazione dell'edificio che ci consente di capire qual è la sua capacità residua. In affiancamento il Ministero ha emanato una direttiva nel 2011 che va a integrare norme tecniche dando più valore agli edifici antichi, dando più valore soprattutto agli edifici tutelati e quindi agli edifici che sono riconosciuti per essere identificativi di un valore, di un bene del nostro Paese. La direttiva implementa le norme tecniche con alcuni parametri più oggettivi rispetto a quelli generali delle norme tecniche, andando a scendere nella specificità del valore dell'immobile che si sta trattando. Ad esempio viene introdotto negli stati limite un ulteriore parametro che è lo stato limite di salvaguardia del bene artistico che è proprio un limite dettato dal valore specifico di una parte dell'edificio. Ad esempio un affresco ha un valore ovviamente più alto rispetto all'edificio stesso per essere una restituzione artistica riconosciuta. In questa zona possiamo applicare una verifica più stringente e quindi riconoscere il valore di questa parte dell'edificio. Per affrontare il tema della valutazione dell'analisi dell'edificio storico bisogna intraprendere un percorso. Un percorso che parte dalla conoscenza dell'oggetto. La conoscenza è una conoscenza diretta, è una conoscenza non solo delle geometrie banalmente un rivievo, ma anche una conoscenza dello stato di conservazione, di quali sono le caratteristiche che determinano l'esistente, che determinano come è fatto l'edificio, qual è la sua cronistoria, qual è la sua evoluzione storica, quali sono le sue fasi costruttive, quali sono i suoi materiali, fino a determinare quali sono le sue caratteristiche meccaniche. E quindi il singolo materiale, non solo come valore in sé del materiale, ma anche come valore meccanico. Io mi occupo quasi esclusivamente di consolidamento strutturale e quindi della parte meccanica degli edifici. La normativa italiana ha, forse unicamente in Europa, riconosciuto il valore della conoscenza. Nelle norme tecniche si introducono concetti come livello di conoscenza e fattori di confidenza che premiano la maggior conoscenza dell'edificio e quindi la maggior diagnostica e quindi l'indagine che mira a determinare come si è fatto e quali siano le sue caratteristiche. Dalla conoscenza poi passiamo all'analisi. L'analisi vuol dire riconoscere quali sono i meccanismi che mettono in difficoltà l'edificio, le singole parti o la globalità dell'edificio. Un concetto importante che va sempre affiancato sia all'analisi sia poi a quello che sarà la progettazione e l'intervento è capire se la nostra attenzione deve essere basata solo su una parte, quindi un intervento locale, quindi un'attenzione di una porzione di edificio, oppure se l'attenzione deve essere globale, su tutta la scatola muraria, su tutta la scatola che compone l'edificio. Quindi il progetto dell'intervento deve essere ragionato in termini di riduzione di quello che è il rischio conosciuto, quello che è il rischio che ci si aspetta nei confronti dell'edificio stesso. Il progetto può essere dedicato a una singola parte, quindi alla messa in sicurezza o al ripristino delle capacità di utilizzo di una parte dell'edificio o del monumento, oppure può essere destinata a migliorare integralmente tutto il manufatto. Quindi interventi locali o interventi globali sono entrambi riconosciuti dalla direttiva del 2011 e dalle norme tecniche come interventi efficaci, efficaci per andare a migliorare una parte dell'edificio. Ciò nonostante si deve sempre tenere in considerazione che l'intervento locale può avere delle ripercussioni sull'intera struttura, per cui un'analisi che va condotta all'interno di una progettazione è sempre quella di valutare gli effetti del singolo intervento, che sia locale, che sia parziale o globale, su tutta la struttura, perché il bene tutelato è l'integrità. Alcuni concetti che devono guidare la progettazione sono alla base della nostra normativa e alla base della nostra storia di conservazione dei beni culturali. Una delle cardine della progettazione deve essere una valutazione sugli effetti che ha il nostro intervento, effetti che possono essere temporanei o che possono essere durature nel tempo e quindi il concetto di durabilità dell'intervento, sia come materiali impiegati, sia come effetti dell'impiego del nostro intervento. L'intervento poi deve avere dei caratteri che possono determinarne la valutazione del comportamento nel tempo. Ad esempio una grande disamina è se l'intervento sia attivo o passivo e quindi se sia un intervento già in grado di compartecipare a migliorare il comportamento dell'edificio nell'immediato e quindi subito dopo la sua messa in opera, oppure se sia un intervento come presidio di un eventuale decadimento della struttura o quindi che si attiva solo su necessità. Un altro aspetto da valutare è quello dell'invasività e della reversibilità dell'intervento. Invasività per capire se questo intervento può essere o meno accettato anche da un punto di vista dell'apprezzamento del monumento, quindi se va a ledere quello che è l'aspetto del monumento. Dall'altra parte è la reversibilità, quindi posso intervenire con un oggetto, con una parte che può essere poi nel tempo sostituita, tolta, eliminata o anche migliorata. L'abbandono dal punto di vista dell'utilizzo, dal punto di vista della fruizione di un ambiente, di un edificio necessariamente porta alla mancanza di manutenzione, manutenzione ordinaria e quindi anche a un decadimento di quello che può essere il materiale stesso costituente dell'edificio. Un degrado per disuso, un degrado per mancata manutenzione comporta poi un'esposizione maggiore dei materiali a quelli che possono essere degli agenti anche solo banalmente climatici che portano a una mancanza poi delle loro prestazioni. Quindi prendiamo ad esempio un muro, un muro intonacato è protetto dall'intonaco stesso. Se l'intonaco viene meno perché non c'è una manutenzione di questo strato e quindi la pioggia, le intemperie lo consumano, il passo successivo è che le intemperie attacchino la parte costituente della muratura, quindi malta e mattoni. Venendo meno malta e mattoni rischiamo ovviamente che il muro possa in qualche modo degradare. Per questo che un intervento deve partire necessariamente dal ripristino di quello che è il buon comportamento dei materiali stessi che costituiscono un monumento. Quindi la prima cosa è agire banalmente su malta e mattoni. In secondo luogo puoi andare a integrare quelle che sono le carenze e quindi andare a introdurre, non trascurando quali sono le capacità della struttura stessa, con nuovi aiuti che possono adeguarle alla normativa attuale. Quindi il concetto di struttura collaborante è proprio un concetto che consente all'aggiunta di lavorare insieme alla parte esistente. Quindi la parte esistente di una struttura non deve essere trascurata, non deve essere abbandonata, deve essere valutata per quelle che sono ancora le sue capacità e deve essere coadiuvata a migliorare le sue capacità per arrivare ad avere un comportamento che sia adeguato a quelle che sono le necessità.